G-LED presenta Sensor, il nuovo sistema, la nuova tecnologia che cambierà il tuo modo di raderti per sempre. Le due lame di Sensor sono montate su molle straordinariamente sensibili e ciascuna sente in ogni momento le caratteristiche uniche del tuo viso e vi si adatta automaticamente. Nessun altro rasoio rade più a fondo, il nuovo rivoluzionario G-LED Sensor, la rasatura migliore che un uomo possa ottenere. Grazie a tutti.